È un'occasione, è anche uno scoglio, un osso duro, perché la Gelbis è una squadra forte, organizzata, che ha un'identità ben precisa, allenata bene, costruita sicuramente per fare un campionato di altro profilo. Per cui, come tutte le domeniche, siamo stati costretti a prepararci bene. Chiaro, abbiamo delle defezioni e ha dovuto fare di necessità virtù, comunque ci siamo allenati bene. Noi stiamo acquisendo un'identità ben chiara, è chiaro che certe defezioni ti indicano un certo tipo di strada, e quindi sotto questo aspetto ho dovuto fare di necessità virtù. Comunque, come ho detto prima, l'intensità è stata alta questa settimana e questo sicuramente ci dà fiducia per domenica, però ci arriviamo sicuramente con delle defezioni. Il termine giusto è delusione, perché ci eravamo illusi questa settimana di poter giocare davanti ai nostri tifosi, davanti alla nostra città, che non vede l'ora appunto di riabbracciare i giocatori. La società stessa, come noi, è delusa, perché insieme ai giocatori che non potranno avere la spinta, anche la società sotto questo aspetto, visto i mancati incassi e quant'altro, è parte lesa, mettiamola così. Quindi c'è forte delusione. Da parte mia spero che sia veramente l'ultima volta, anche perché so che c'è stato forse, ma quanto so, un parere favorevole degli organi competenti, quindi spero veramente che sia l'ultima volta che la città possa riabbracciare il Miramare.